Benvenute e benvenuti al Tg del Salvagente. Apriamo questa sera parlando di mutui Euribor e di una nuova sentenza della Corte di Cassazione che smentisce una sentenza precedente relativa a dicembre. Sembra infatti che debbano essere i consumatori stessi a provare che la propria banca avesse un'intesa manipolativa. Sono infatti a rischio i risarcimenti. Sentiamo il servizio. Docia gelata sulle richieste di risarcimento di chi, tra il 2005 e il 2008, ha sottoscritto un mutuo a tasso variabile subendo un aumento di tassi per effetto di un'intesa manipolativa dell'Euribor tra alcune banche. La Corte di Cassazione, dopo la sentenza del 13 dicembre 2023 che apriva la richiesta di risarcimento con nuovo pronunciamento, ha cambiato orientamento. Il consumatore dovrà dimostrare che la banca che ha emesso il mutuo era a conoscenza del cartello che gonfiava l'Euribor. Un'inversione di marcia rispetto alla sentenza del dicembre, quando invece si stabiliva che il tasso di finanziamento era nullo, anche se la banca che ha concesso il mutuo non ha partecipato all'intesa restrittiva della concorrenza. Paolo Fiorio, coordinatore del Servizio Legale Nazionale del Movimento Consumatori, ha commentato che la sentenza cerca di mettere una top a favore delle banche e ostacola le richieste di risarcimento. Il nuovo pronunciamento interviene su due profili, innanzitutto fa ricadere sul ricorrente l'onere di dimostrare che la banca era a conoscenza della manipolazione dell'Euribor, quindi esclude qualsiasi automaticità della responsabilità. In seconda analisi, il ricorrente deve provare l'effettiva alterazione del parametro Euribor a suo danno. Tutto molto complicato, così si ostacolano le richieste fino a renderle di fatto impossibili. Tuttavia, quando ci sono due sentenze così discordanti tra loro, ci sarà decisione a sezioni nitte da parte della Cassazione stessa. La Cassazione nel dicembre 2023 sancì che il tasso del finanziamento definito sulla base dell'Euribor manipolato era nullo anche se la banca che ha concesso il mutuo non ha partecipato all'intesa restrittiva della concorrenza. L'articolo 2 della legge 287 del 1990 prevede infatti la nullità di qualunque contratto che costituisca l'applicazione di un'intesa illecita perché è restrittiva della concorrenza. Ora però la stessa Cassazione interviene e cambiano le regole in tavola. Vedremo se e quale sarà il pronunciamento definitivo. Parliamo ora di frutta e micotossine. Sembra infatti che la frutta sia particolarmente suscettibile allo sviluppo di queste sostanze perché deferisce molto in fretta. Analizziamo quindi i risultati delle verifiche fatte dal laboratorio Food Lab dell'Università Federico II di Napoli. Ci spiega la dottorezza Luana Izzo, ricercatrice e responsabile della qualità del Food Lab. Nelle nostre analisi abbiamo ricercato 26 micotossine. Solo una, la patulina, è regolamentata dalla legge per la matrice alimentare in questione. Tuttavia i succhi di frutta, essendo spesso il risultato di un mix di diverse varietà, è possibile che possano essere contaminati da diverse tipologie di funghi. Ad esempio dalla letteratura scientifica sappiamo che l'arancia e la mela sono più esposte alle micotossine che derivano dal fungo del genere alternaria, mentre la patulina è un patogene molto tipico della pera. I campioni, spesso composti da due o più frutti, sono obbligatoriamente stati sottoposti a verifica per accertare la presenza delle principali micotossine e dei loro metaboliti. Le cause della contaminazione sono diverse, spiega l'esperta, perché le micotossine possono svilupparsi a seguito di una cattiva conservazione del frutto, oppure per una maturazione eccessiva o anche durante il trasporto. Tuttavia umidità e calore sono aspetti favorevoli al loro sviluppo. Al di là delle cause, quali rischi per la salute rappresentano queste sostanze? La IARC, l'Agenzia per la Ricerca sul Cancro dell'OMS, classifica nel gruppo 1 le aflatossine come cancerogene per l'uomo e nel gruppo 2, probabili e possibili cancerogeni, l'OTA, l'ocratossina A. La patulina è nel terzo gruppo, tra le sostanze non ritenute né sospettate cancerogene. Per tutte le altre non c'è una classificazione IARC. I risultati indicano che la patulina in questi 20 campioni è stata osservata solo una volta, ma è una concentrazione molto bassa, inferiore al livello di quantificazione analitica. In generale i livelli riscontrati per le micotossine ricercate sono bassi, ma in alcuni casi non è rassicurante il fatto di trovarne diversi residui insieme. Ciò segnala un problema. Seppur le sostanze rilevate insieme non pongono un rischio serio per la salute umana, segnalano comunque delle criticità lungo la filiera che andrebbero indagate. Quando troviamo due, tre, ma anche quattro residui di micotossine nello stesso succo, è come se si dovesse accendere una spia per avviare un monitoraggio delle varie fasi della lavorazione della frutta, dalla raccolta alla trasformazione fino al confezionamento. Parliamo ora dello scontro di facciata sul NutriScore tra filiera Italia e Confagricoltura, che sembra aprire le porte alle multinazionali del cibo. È in atto uno scontro tra filiera Italia, associazione di categoria sostenuta da Coldiretti nella quale figura anche McDonald's e Carrefour, e Mediterranea, il nuovo progetto associativo promosso da Confagricoltura e Union Food, che vanta tra gli aderenti big del calibro di Nestlé, Unilever e Bayer, la produttrice di Roundup a base di glifosato. Formalmente il contendere all'etichettatura Semaforo NutriScore, Luigi Scordamaglia, presidente di filiera Italia, si è opposto al progetto Mediterranea di Confagricoltura, dichiarando che le aziende che vogliono promuovere la dieta mediterranea in realtà stanno sostenendo NutriScore, investendo nei cibi e prodotti in laboratorio. Sorprende vedere in opposizione due realtà che di fatto sono state sempre unite su tutto, nel volere i nuovi OGM, nell'opporsi al New Green Deal, che tra le altre cose prevedeva il taglio del 50% dell'impiego di pesticidi nel 2030 e, seppur più o meno esplicitamente a seconda della latitudine, in difesa del rinnovo del glifosato. Così sulla presunta difesa del Made in Italy avanzano gli interessi delle multinazionali del cibo, che cattive per definizione non sono, ma rivendicano l'uso di nuovi OGM e pesticidi che contrastano con la difesa della salute dei consumatori. Sentiamo ora l'intervista a Riccardo Quintivi, direttore del Salvagente. Allora, partiamo dal fatto che in commercio troviamo davvero molte tipologie di solari ed è giusto che sia così, perché i nostri bambini vanno difesi, ormai ce lo spiegano tutti da anni. Il sole fa dei buoni e dei brutti effetti sulla pelle, quindi la crema solare è importante. Però quale crema solare? Noi ne abbiamo analizzate 12, divise equamente tra creme e spray solari. Chiaramente tutti protezione molto alta, perché è quella che serve ai nostri bambini, alla pelle dei nostri bambini durante l'esposizione al sole. Quello che abbiamo trovato è innanzitutto una differenza molto forte nel tipo di filtro, quindi il tipo di protezione che viene offerta da questi prodotti. Normalmente sono due le famiglie di difesa, diciamo di schermo delle creme e sono i filtri fisici e i filtri chimici. I filtri fisici aggiungono delle sostanze per fare un po' da specchio, quindi riflettere il sole e i filtri chimici invece hanno un'azione puramente chimica sulla pelle. Nei filtri chimici purtroppo abbiamo trovato diversi interferenti endocrini. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di sostanze che raccontiamo nel numero del salvagente in edicola che possono avere un effetto problematico sulla riproduzione, sugli organi dei nostri bambini e quindi evidentemente trattandosi poi di piccole creature che in qualche modo non hanno ancora sviluppato bene un sistema endocrino, evidentemente sono pericolose e quindi filtri chimici c'è sicuramente da diffidare. Sui filtri fisici invece abbiamo delle sostanze che certamente da sempre come il biossido di titanio o l'ossido di zinco sono accettate, ma il problema è quando invece queste sono in forma nanometrica, perché sono particelle talmente piccole che possono penetrare negli organi e quindi anche qui dare diversi problemi. Quindi la scelta non è semplicissima per un genitore, ovviamente non è limitata al prezzo del prodotto, non può essere solamente il prezzo a guidarci, ma dovrebbe essere una riflessione che noi facciamo sul numero e quindi in qualche modo indicando quali sono le creme che superano tutti i sospetti e superano le nostre analisi. Abbiamo poi sentito una dermatologa, una professoressa per capire quali possono essere le altre protezioni per i nostri bambini. Evidentemente come sempre il consiglio è quello di non stare nelle ore più calde in spiaggia, di spargere la crema anche quando il bambino sta all'ombra, però diciamo uno dei consigli che ci dà la dermatologa è quella di per esempio farli giocare anche se vogliono all'ombra sotto il sole con un abito molto leggero. Questo può servire in qualche modo a limitare i danni alla pelle del bambino che sono danni che poi in qualche modo compariranno in futuro. Una serie di consigli che possono realmente essere utili per godersi le ore di mare, farle godere i nostri figli ma senza nessun rischio. Questa puntata del Tg del Salvagente termina qui. Vi ricordiamo che potete sempre rimanere aggiornati leggendo la nostra rivista, visitando il nostro sito o seguendoci sui nostri canali social. Vi auguro un buon proseguimento di serata.